Uccide le cellule che producono l'insulina causando il diabete alimentare. Si chiama proteina P66SHC, ribattezzata Proteina Killer, ed è stata scoperta dall'equipe del Dipartimento Endocrinologo dell'Università di Bari, guidata dal professor Francesco Giorgino. Abbiamo individuato un rapporto molto chiaro tra gli eccessi di grassi e l'aumento del tessuto adiposo e il danno delle cellule che producono l'insulina, che sono cellule beta del pancreas. Questo danno, continua il professore, si realizza proprio a seguito dell'intervento di questa proteina, che viene aumentata nella sua quantità a livello cellulare degli acidi grassi e, a sua volta, danneggia le cellule facendole morire. A questo punto abbiamo meno cellule che producono insulina, il che comporta un aumento della glicemia. Principale indiziato che introduce nel nostro organismo la proteina killer è l'olio di palma. Troppi grassi nocivi, quindi, come l'olio di palma, possono provocare il diabete distruggendo le cellule beta pancreatiche. Lo studio, condotto dall'Università di Bari, con la collaborazione dell'Università di Pisa e di Padova, tutti i centri affiliati con la Società Italiana di Diabetologia, è andato a valutare gli effetti del palmitato, un acito grasso presente nell'olio di palma, e in misura più modesta anche nel burro e nei formaggi. sull'espressione di questa proteina killer a livello di isole pancreatiche umane e del topo, oltre che sulle cellule di insulinoma di ratto. Gli obesi o in genere le persone con molto dessuto adiposo, localizzato sul ventre, sono ovviamente più a rischio. Quanto alla possibilità che ci siano presso farmaci in grado di inibire l'effetto di questa proteina, Giorgino rileva che è auspicabile. Questa proteina è stata implicata in altri problemi legati al metabolismo. E' indubbio, dice Giorgino, che avere a disposizione strategie terapeutiche in grado di limitare gli effetti della proteina killer, sarebbe un'arma in più per sconfiggere il diabete.